Ciao a tutti ragazzi della Corazionto 9 bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video di Nozoom Eleven Go con lo stone stuono eravamo arrivati qui ragazzi, sto registrando di seguito dato che nello scorso episodio ho registrato tipo 5 minuti perchè erano passati due giorni da una clip all'altra assalto animalesco non so anch'io se farlo o no, in teoria dovremmo farcela senza, giusto? giusto? giusto ok perchè è tornata indietro un attimo? ma perchè? dai sono fiducioso anche perchè ho livellato molto la squadra però ragazzi solo Riccardo anzi no, praticamente, solo ah no c'è anche Zanark solo Zanark e Riccardo ragazzi li ho allenati io il resto fa tutto da sé cioè non è allenato perchè Beta, Alpha, Gamma non ce li ho in squadra no? un po' lento Gambo, sbaglio perchè con lo spirito guerriero doveva andare un po' più veloce di solito è con l'armatura che si velocizza molto un giocatore però insomma, comunque me lo aspettavo un po' no vabbè, mi piace vincere facile attiviamo quel di Riccardo che in mezzo al campo deve fare un'ottima regia attendo il portiere usa Gargantua, Gigante Medallico e noi cosa usiamo? vediamo dietro dell'orchestra, non mi ricordo più come si chiamava ok ok ci proviamo, non è un tiro suo abbiamo solo Licaone che era un mosso offensivo tipo ok spreca molto però nel pararlo quindi ci sta sapevo che non l'avremmo mai presa che non l'avremmo mai presa però vabbè ok papà papà anzi vai col magnetismo comando di difesa 0-6 non so perchè abbiamo messo i comandoli di difesa no, quelli dell'Eldorado intendo potevano tenerli con i nomi normali no? scusa facciamo un casino incredibile così no, beta non c'è una mossa difensiva no, ma che il giocatore sei beta perché fai anche schifo in difesa quindi non puoi giocare a centrocampo così ok mi sto rendendo conto adesso ragazzi che la formazione è un po' troppo offensiva è un po' troppo offensiva effettivamente e si è ingannevole è più che ingannevole è Matrix con roba di cos'è è madre tutto addosso non vedo niente di cosa c'è di me ah perchè c'è la papà che blocca tutto ok vai eh vabbè ma chi è? Mer che figura di Mer che stiamo facendo eh? ecco per rimanere ok Romeo Blackjack che è quello che c'ha anche Willy Willy Glass William Glass Blackjack riesci anche a prenderlo da quanto veloce dare della fortuna un mossa che ho sempre odiato vabbè futuro negativo poi mi sa ragazzi che cambierò assolutamente tattica devo mettere una un po' più difensiva intanto becchiamoci sto gol la parata non ci credevo nemmeno lo giuro mettiamola di là dai però dai ma cos'è? ma vedete che schifezza doppia erica ce lo prendiamo stavolta mi sa 204 ragazzi speriamo che agli un po' perché con la distanza cala che è una cosa che sto notando ultimamente ok abbiamo preso di molto stavolta bravo un buon portiere sì però qualcuno si proponga per favore devo lanciarla così a caso guardate ancora? ma porca non lo so spirito reale ma solo uno masca altra è invincibile toglietevi per favore portiere 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 dov'è? ma vaffanculo eeeh portiere spado del cuore ma vaffanculo fermo fermo ma no fa tutto da solo fa tutto da solo io non ho parole eh la bellezza l'ha cercato non cominciare anche a te intervallo asso nella manica che hai gulie che hai di asso nella manica c'ho paura se mi dici così quel modo così convinto l'altro portiere al boss di Romeo scusate devo fare una robetta qui vediamo ok sto editando minecraft nel momento quindi devo salvare un attimo automarking wow ooooh piacere mio mi chiamo giochiamo a calcio figata lo adoro che grande fantastico a me ricorda match a freezer tipo grande questi robottini mi fanno impazzire è grande anche la bandana anche i capelli ha un buon parocchino di qualità eh preso da la conte la sensazione tornata attenzione Zanna che fa bene questa cosa nonno che dialoghi ragazzi che gioco automarking viene con noi e dato che Romeo stava sfiancando ci sta ci sta Romeo è stato rimanato da automarking organizzare la scuola che sia necessario certo perché come ho detto ragazzi volevo fare una formazione più difensiva non troppo ma comunque più difensiva più difensiva che ho detto con un bel blocco centrale no così sono tutti esterni praticamente fa sinceramente molto schifo questo qui che sono molti centrali ci sta direi divino Zanna quello ok ci manca proprio qualcuno che abbia una mossa difensiva ragazzi solo Zanna che ce l'ha ci manca proprio la difesa ragazzi ci manca proprio la difesa qui abbiamo anche Mike ma non è un mostro difensivo guardate un po' davvero siamo davvero in crisi sotto quel punto di vista vediamoci un attimo automarking ha costituito questo android che si è a march 125 ripesa non è male assolutamente mano dei pinguini ok mano dei pinguini è nuova c'è la pinguina imperatore ma non la mano dei pinguini ragazzi si in effetti fa un po' ridere vabbè ok ragazzi carichi carichi dobbiamo farcela dai e dai no dai per favore non litigate fra voi che fate uno più schifo dell'altro ah dati alfa da 38-48 beta da 30-52 gamma da cos'è l'otto la lotteria ah la tombola ho capito chi ha fatto tombola? non capisci riccardo questi numeri non penso tu sia l'unico ah nobunaga oh damn a volte ritorno ragazzi eh ho capito però non troppo calmo è ben qua un momento abbastanza critico riempire la barra va bene bisogna prendere il pallone però prima ripassalo qui che è molto meglio se ce la fai eh beta è stata stronza fin quando conto di noi guarda la parola però cioè sul serio ragazzi sul serio cioè veramente beta è qualcosa di incredibile era forte forte e poi adesso è tutto scarso dai eh però porca schifezza porca schifezza di nuovo ok mina terrestre dai un po' di punti per queste mina terrestre ci stanno e poi una barra prendiamoci lo spirito guerriero perché non possiamo assolutamente sbagliare lui c'è un bello spirito guerriero devo dire mi piace molto fenix sovrano di cieli avanti 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 qualcuno mi aiuti per favore no questo qui attaccolo almeno attaccolo che almeno gli togli qualcosa questo è il mio scopo più che passare è proprio attaccarlo bam gli ho fatto un po' male almeno dai addosso chi è zanark zanark provaci che ti devo dire provaci eh ciao ho messi bene 2-0 per loro ma è beta anche tu però fai schifo veramente vergogna tibet questa formazione difensiva non basta spirale elettrica ma è assolutamente facile ragazzi perché davvero qui si è messi maluccio vai ottimo andiamo 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 ottimo dai 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 ti prego campo ti prego ti prego ma vaffa mamma se fanno arrabbiare queste cose non devo perdere non posso perdere non voglio perdere mike ti prego ma quanto fanno schifo 31 ha fatto sbaglio c'è proprio da da principianti 31 ma cosa dico principianti da schifezze armatura perché se no mi sfianchi mi sta già sfiancando cerco dell'obbligo è molto forte quindi ce la devi fare mi raccomando armatura hai un tiro con l'armatura? spero di sì spero per te di sì ok ottimo prima che ti svanisca l'armatura vai a farti un tiretto che almeno riempiamo anche la barra ok scissione atome ah fighissimo questo tiro pare che tutti i tiri del dorado sono belli sinceramente boom esplosione nucleare praticamente sbaglio ho detto giù la barra caspita non ho neanche visto mi è sembrato di vedere un movimento a scendere quasi no non è salito ok tu ti ha sotto 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 grande con l'armatura grande con l'armatura se hai ancora 29 ce la puoi fare ce la devi fare sì 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 avanzamento però potevo tirare porca miseria mi facevi tirare su livello di velocità seguite i miei ordini virtuoso vulcanico sì ma ero lì virtuoso perché vulcanico non si sa perché tira affermativo devo tirare io attacco omega figata protocollo omega alfa beta gamma attacco omega ci sta comando di tiro 24 che fio bam repulsione e non la prendi questa e c'è gol gol pagaremo ragazzi con alfa lo attribuiamo alfa ok cambia il tuo colore andando wonderbot essere un eccezionale stratega ho capito però ragazzi bisogna veramente fare tutto in velocità ora possiamo usare la tattica speciale virtuoso vulcanico ho capito però ragazzi ripeto bisogna velocizzarsi ok possono usare la bocca di tutti quanti quindi questo è bene subito spirito guerriero ragazzi devo assolutamente sfruttare zanark che non lo vedo zanark eccolo qua un attimo no ce l'ho tutti tre in azione ma intanto adesso l'armatura quasi vanisce quindi siamo a posto difendiamoci chi ci vuole la palla io voglio la palla assolutamente lui poi verrà probabilmente a sfondare no attaccalo io mi difendo bam caspile mi ha preso tutti i punti praticamente però vabbè almeno no adesso ho già capito che era l'armatura la sua ok tattica ti prego ti prego ti prego ti prego ma vaffan bagno va riccardo sei tu a volte le visioni sfonda sfondala sta qua sfondala che non si può vedere peggio di beta sfondala sfondala altro che attacco sfonda ok no abbiamo vinto per un attimo visto ok riccardo vai con nobunaga oda porca miseria vai nobunaga ragazzi devo segnare assolutamente con riccardo è sul momento lo vedo carico carico non so voi ma io lo vedo carico carico col mix ma spai ragazzi non lo ferma più nessuno vai 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 riccardo che sei anche veloce no non è vero niente però vabbè altro sfondamento vai ricchi vai ricchi ti voglio bene lo sai vai ricchi 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 ok tutti contro di te ma non ti preoccupare riccardo sei con me sei con me riccardo vai 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 ti prego si ok ottimo ottimo benissimo così ottimo 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 addosso ok non può fare tiro ok quindi facciamo armatura miximax impulso effimero prova a pararmela se c'hai coraggio prova a pararmela se c'hai il coraggio no se me la para mi arrabbio tantissimo non può pararmela ragazzi ora lui sarà l'armatura per il mio interportiere intendo 596 che cala pochissimo perché siamo vicini eccolo qua l'armatura ma non può raggiungere il 596 penso spero si stordito anche grandissimo e c'è ancora guardiamo ragazzi pareggia la Raymond con Riccardo di Rigo ora ragazzi tuo Kazanark è rimasto lui praticamente gli altri sono quasi tutti spompati a parte Beta che non la considero nemmeno perché porca miseria che figura mi sta facendo fa ok dov'è Riccardo vieni qua Ricchi vieni qua ho le mani che mi tremono perché non voglio sbagliare non voglio assolutamente sbagliare tutti su tutti su attacco difendo io mi difendo perché comunque non posso sbagliare dai 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 lui mi attacca invece dai aia la palla è sua anche mia pure aia che brutta non me l'aspettavo ragazzi sta buttando tegola qua no c'è anche tutto il robot no vieni 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 no non mi lascia che tue sceglie che tue sceglie subito subito zanark zanark vieni zanark ora puoi farlo vai vieni vieni zanark questo qui è più forte mi sa di spirito guerriero quasi quasi scatto ma tu devi fare una brutta fine devi fare una brutta fine non ha parole vabbè automarche fai sta mano ai pinguini non so cosa sia eh lui fa pure la spada del cuore ce l'ha fatta ragazzi ce l'ha fatta 442 ciao lulù vediamo cos'è però sono curioso aia però 141 alla faccia del grande portiere vaffan mamma mia se non spacco lo schermo ok allora tocco a noi partire non voglio scusa eh su zanark specialmente beta sta a te ok va benissimo perché mi ha contestato quello a questo tempo posso sbarazzarmi di quello va bene ci credo ancora ragazzi eh perché se lo stesse chiedendo si ci credo ancora guarda che si ferma che si ferma per farmi sprecare ancora energie maledetto che non sai altro ok non importa vuoi farmi sprecare energie va bene spreco energie e che gli italiani non vanno bene fallimento tocca a zanark contro questo qua armato qui con l'armatura prigione purpurea ragazzi perderai l'armatura non importa perdiamo l'armatura prigione purpurea la devo fare ragazzi per pareggiare e se voglio avere una speranza almeno di vittoria potere assordito mi sembra no alla faccia dell'assordimento 483 perché comunque ok gol lo stesso c'è il gol valore per arrivare ragazzi con zanark 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 sempre lui ottimo è vivo ho capito però manca davvero poco mancano 8 minuti ragazzi devo fare un miracolo ok ci premo lo stesso zanark soffre sviene quasi è tornato di nuovo il momento di zanark per il miximax ragazzi mi sono allenato quindi sono anche un pochino di più della squadra però veramente è difficile ragazzi non pensate armatura e attacco non lo voglio sapere basta sono stanco di difendermi ce la devo ce la posso ce la devo assolutamente fare attacco anche lui e attacco anch'io morti tutti e due ma la palla è mia ma la palla è mia sfianchiamo entrambi ma ripeto la palla è mia ragazzi questa è importantissima come notizia non è vero che la palla è mia cosa cacchio ma è quella roba lì allora vabbè evochiamo questo ragazzi sì zanark può evocarne un altro mi batto il cuore a mille dai è l'ultima chance zanark ok ferma la marina ferma la marina dov'è eccolo lì devo passare lì ok contro due e poi devi andare da solo mi raccomando zanark non farmi scherzi adesso zanark ti prego ti prego ti voglio bene zanark devo dare un occhio subito al tempo 25 ce la posso fare ce la posso fare vai ti prego ti prego ti prego mamma non si mette l'attenzione questo spirito potente questo spirito ragazzi col miximax è ancora più potente perché posso farlo proprio solo col miximax tra l'altro tira tiro ora ragazzi con l'armatura assolutamente si anche l'armatura così dato che con questo spirito guerriero non ha tecnica di tiro aveva tecnica di difesa non ci serva niente quindi usiamo l'armatura ragazzi il tutto e per tutto miximax armatura del spirito guerriero più forte con il miximax proprio e tiro catastrofico davanti alla portiera tra l'altro anche livello 1 lui è proprio all'ultimo ragazzi 687 repulsione oh mio dio ragazzi voglio 50.000 like ragazzi e ora tutti giù non mi interessa niente tutti giù tutti giù tutti giù tutti tranne zanac perché non voglio far sprecare gli altri caso me li faccio perdere un po' di tempo avete capito la mia tattica ok ok taglio dimensionale anche questa è una borsa che impara con questo miximax non con lo spirito guerriero che lo spirito guerriero impara il guscio un'altra roba è difensiva quindi non serve sinceramente però se ne può andare ancora zanark che resiste ragazzi con l'armatura guardate quanto ne ha ancora ne ha ancora molto ragazzi zanark e quindi vuole andarsene ragazzi col salto esplosivo se ne vuole andare zanark ma cosa sta facendo zanark mamma mia cosa ha fatto e cosa sta facendo zanark sta per scaldare il tempo ragazzi ma non ce ne frega niente non ce ne frega proprio niente salto esplosivo ancora ragazzi forse possiamo proprio chiudere è già chiusa forse la partita però un gol non possiamo mai sapere tanto ragazzi avete visto tanto sfianca il portiere sfianca il portiere e tiriamo ventinovesimo sarebbe già finita perché un gol col caspita che me lo fa in un minuto ma magari tiravano di sanzo non si sa ragazzi ma io per questa parola e tutto ragazzi ci vediamo alla prossima parte con l'ultimo tiro e probabilmente con la vittoria di questa partita ragazzi che ci serviva era obbligatoria la vittoria e dovevamo vincere anche la prossima almeno di tre quindi ragazzi sono emozionatissimo che bella partita ragazzi mi raccomando superami i 100 ma anche di più di like ragazzi mi raccomando vi prego perché questa partita verrà incredibile io ragazzi vi saluto vi ringrazio un saluto a tutti la vostra 489 e mi raccomando spolliciate commentate e fate di tutto ciao ciao